Allora gente, qui è mezzo divino, che siamo probabilmente vicini alla fine di Papernik Ho visto a che punto siamo e se ci gira bene oggi dovremmo finirlo Mi bruciano gli occhi perchè mi dovrei mettere un po' di collirio perchè da un po' che sono al computer Però no no, quindi prima finisco Papernik e poi dopo mi metto il collirio e mi prendo due secondi di riposo Non penso di avere tanto da dire prima che cominciamo Quindi, credo sia il momento di lasciare stare OBS, dare gioca e poi riuscire a fare tutto e abbassare il volume perchè è estremamente alto Ci siamo? Ok, dovrei essere a posto Posto, continua Ehm, normale, sto cercando di riodarmi un attimo i tasti A posto Ah, qui vuol dire non posso controllare la videocamera, molto bene, molto interessante Mi aspettavo qualcosa di buffo nell'ascensore, sarebbe stato un bel easter egg da mettere Ok, no, quello è la videocamera Ok, no, quello è la videocamera Appento a dove metti i piedi e non parlare di campo Ora dovrai attraversare questo campo Cosa? No, what is this? What is this? No, bro Bro Si non ho capito Ah, non posso volare? Non posso neanche volare, mi sgama No, ci sarà un modo per farlo, sincero, onestamente, sta a fare qui Un modo per farlo, onestamente, ci sarà, no? Ok, questa gente che posso già iniziare a farla fuori Però affogala con una sonora, è molto affogante Non so, però salta sui tavoli Quanto sono belle le texture, palesemente, messa a due centimetri d'acqua e il vetro Quanto sono belle Ok, aspetta Questi qui, però, sono importanti C'è altro Secondo me questo rivale sarà un vero cancro Ah, c'è anche la possibilità Cioè, io lo scopro adesso Scopro adesso e c'è la possibilità Io scopro ora c'è la possibilità di fare Letteralmente Per favore Cioè, adesso è un po' versificato e capisce che c'è soltanto adesso la possibilità di Di usare la prima persona nel gioco Questa parte qui nulla Ok, immagino di dover andare sempre solo al diritto Ok, cosa volete? Mi diverto un po' Ok, questa volta immagino nulla, vero? Ok, robottino No, robottino ho detto Ok, qui inizia ad esserci stradine più inculose, vedo Inizia ad esserci quella lì che O becchi da due secondi o becchi da cinque Inizia ad essere molto cattiva la cosa Madonna, è cattivissimo però No, ma è lunghissimo tra l'altro il mio percorso Aiuto È un percorso lunghissimo Ok, questa è brutta però Ti prego Era un percorso veramente lungo questo Ok No, no, non volevo Dimmi che non muoio, per favore Dimmi che quel tizio non mi fa danno, per favore Dimmi che non va via e che non si può poter essere morto Oh, 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 oh Lui lo può fare, eh Mi può attaccare mentre io non posso muovermi Siamo proprio a livelli di essere tornati a Conker Allora Questa è brutta ma si può fare Questa è roba bella però Io comunque non ho capito come funziona il campo minato, eh Come funziona il campo minato? Io non l'ho capito però Oddio, che casino è questa roba Ok, è molto cancro da solo a fare Ok, non dovete mai volare Dovete semplicemente saltare normale Ok, però qui mi serve usare No, no, no Ah, ok, ok Mi serviva farlo, ok Ho avuto paura Ok, forse ho capito che funziona quel tizio lì Forse ho capito che funziona Funzionava più o meno come il boss di prima Non lo so Ok Ok Ok, no, sperato un razzo Pensavo fosse un caso di mandare i robottini E ci fosse un altro segreto Ok, però i missili Uccidono quelli stronzi in due volpi Ok Ok, questo non ci serve però Stroncarlo Teniamoci colpi per qualcosa di utile magari Tipo eventuali altri nemici più stronzi Comunque io non ho capito appieno come funziona il campo minato Io non ho capito come funziona il campo minato però Cosa? Cosa? Qui c'è schianto? Scusate, no Solo in questa idaccia Questo punto Mi ammazzo anche Ma voglio vedere Ah, sono così verdi Ok, aspetta Cosa? Non ce l'ho nemmeno Sì, quelli lì muoiono a sto giro A sto giro quelli lì muoiono Non ho abbastanza vita per scontare lui Sì, no Quanta vita ha quell'uomo? Corri Corri Forse li salvo Forse li salvo Li davo già per morti Li davo già per morti Ok E' stata una botta di culo incredibile Ok, questa però è cattiva Come lo faccio? Come faccio? Spero di non morire Ah, ma posso starci giù? Ok No, io pensavo chissà cosa Pensavo di non poterci stare No, non volevo salire Non volevo salire io Che cazzo fai? Ok, è difficilissimo È difficilissimo Cioè ma è già diventato impossibile frutto di un tratto Ma è già diventato difficile frutto di un tratto No, fermo Ok, aspetta Si può fare Sì, però Voi rompete le palle Merda Merda Non posso starlo Perché ho una vita piena Ok È leggermente cattiva Ok Ok No, io ho bisogno di ripigliarmi vita Ho bisogno di ripigliarmi vita Se no qua non riesco Vita piena Mi serve vita piena Anzi no Stasera Per lui Per lui è normale No, che cazzo fai? Ok 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 Quasi vita piena Posto? Dai Almeno uno Lo vuoi ammazzare almeno uno? È cattivissimo È cattivissimo Ok Almeno uno è morto A posto Donald Per favore Vediamo se mi dà anche vita piena No Mi dà i poliattiri Elix Sono gli Elix Ok Che incubo No Questo sarà un livello infinito Me lo sento Mi ricordo Ci sei che cosa pensi? Con che il campo minato Io non ho capito Come si passi Senza Attivare la tipa Ah Forse ho capito No Non penso Cos'è sta merda? Cosa è sta merda? Oddio No È impossibile È difficilissimo Non so come ho fatto Ok È molto brutta Aspetta Ce la posso fare? Per favore Ma pure Ah Ah È stata molto brutta Ok 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 Te sarai stronzo Vero Se appari così Cosa sei te? Questo potrebbe essere L'evroniano Più pericoloso Che ci sia BK Oddio Possiede un'arma Molto potente Ok Non ci tengo a sapere Cosa possa fare Che cazzo Ma te se è grullo Te se è grullo di capo Ok No Sarà davvero brutta Oh no No Oh no 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 Ci mancava un attimo di Mifor Perché non era abbastanza Come lo so No Oddio Ah Ok Rampino Era B Se non sbaglio Giusto Se non sbaglio Rampino Era B Ok Aspetta Aspetta Ok Non ce n'erano altri Manda via la videocamera Per favore Non mi ha visto Che culo No No Perché si è staccato Perché è morto Eh Non ho capito il motivo per cui Non ho capito perché sono morto Ok Sarà molto tosta Sarà molto tosta Ok Per favore Per favore Non fatti sgamare Forse sono morto Perché sono andato Contro il muro Forse Forse ero morto Perché è andato Contro il muro Ci sta Ok C'è altri tipiti A salvare Però aspetta Ok Aspetta Ora si può fare Si può fare Oddio Sarà costissima Che culo Ok Aspetta Si può fare Si può fare Ok Era stra easy Davvero easy Davvero easy Rispetto a quello di prima Che sarà facile Allora Vai Di suro Di suro Appare al gente Di suro Oh Puoi morire Ma è buggato Non ho capito Come lo ammazzo No Un altro No Che si inizia il muoio Che si qua muoio Mi vede voi Per favore Ok Avevo già paura Che crepassero malissimo Ok Qualcos'altro Al giro Mi serve No Non mi serve Altro Cioè Io li davo Già per morti Pure loro Inizia a essere Davvero tosto Inizia a essere Veramente tosto Cioè C'è stato un salto Di difficoltà Davvero incredibile Fermo Tessera va brutta Vero Ok C'è il coin Però mi piace Questo però No Qualsiasi cosa Sia questa Non mi piace Cosa Che merda È questa No No Don't Oh no You don't You don't Adesso Siamo Con uno Strapuntino Di danno Sti affari Qui Vado di via Cazzo Io non ho capito Come si scansi Il campo minato Come si face Il campo minato Io non l'ho mica capito Non c'è niente Non c'è niente Rimasto dietro Vai Ok Quattro razzi Però possono ammazzare Lui È molto comodo Sapere quattro razzi Possono ammazzare Per lo Ancora più stronzo È molto buono Sapere A posto Voglio vedere Se ci possono Eventuali O no Questa sarà brutta Questa sarà brutta Se voglio Devo anche rifare Merda Se voglio Devo rifare Anche quello Ok No Oh che culo Ti prego Che culo Che culo Ok Mi sta dando A vero di culo Due Tre Ah L'avevo già colpito Una quarta volta Lui Ok Vai No C'è gente brutta Ok Uno è morto Ma io penso Nel capito Che si scansi Il laser Tanto che è molto Incasinata Che cosa Vita Vita Dammi vita Ok È molto brutta Cioè Il gioco è diventato Difficilissimo Tutto un tratto Devo Decompensare C'è nel zero Ok Fine livello Quanto è stata brutta Cioè è diventato Difficilissimo Tutto un botto Il gioco Cos'è quel 49 Su 40 Però Sono confuso Da quel 49 Su 40 Va bene Il salvataggio Ha completato Tutto l'e vuoi Ma ora Mi manca ancora Un power up Tra l'altro Comunque Boh Fra un'ora Dovremmo Avelo finito Secondo me Si gira bene Secondo me Si gira bene Se non c'è Casini Se non finisce Me conquer Non mi blocco Il boss finale Ok Non sembra Impossibile Per adesso Ok Due Tre Quattro Cinque Sei Sette Ok Sette colpi Elix Ammazzano Quello ancora Più strunzo Molto comodo A sapere Qui non penso Poter No Qui non posso Stroncare niente Vai Oddio E' brutta Ok Ok Ti prego Che culo Altri missili I missili Sono stracomodi Ok Pensavo in quella scelta Fosse di Sulla cosa Di bello Ok Aspetta Aspetta E' brutta No No Non puoi Compermi No Mi metti anche La roba E casca E' la fine Però Al prezzo Stia diventando Normalmente Parkour Ok Aspetta Ok Tutto è già morto Uno Due E tre Ok Ho capito Che si scansano Che gli ancora più stronzi Ok Il gioco adesso Non può fare Quasi niente Per incularmi Uno Due Due E tre E tre Avevo pure Finito i colpi Speciali O sbagli Aspetta Ah ok No Due strade Per Semplicemente Prendere Il bonus Ok Allora Allora Secondo me accadrà Qualcosi Stronzo Appena Lì Vai Uno Merda No No Ti prendi qua Di qua Di su Di qua Ti vado a salvare Oh Lo sapevo Ehm Volta niente Qui niente Ok Robottino Time Sì Però Se non lo so Nemmeno controllare Sennò Nessun fa Malaccio Ok Cosa sta roba Oddio È lunghissimo Il percorso Come percorso Lunghissimo Ok Però mi merita Rompere le scatole Perché se rompo le scatole Perlomeno Mi dà qualche bonus Di tempo Secondo me però Non mi conviene Ok Ce l'ho fatto uguale Ce l'ho fatto uguale Dai Lo facciamo Lo facciamo Fermo Aspetta Ci c'è roba bella Ok Questo l'ho già fatto Non è difficile Dai 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 Questo l'ho già L'avevo già fatto All'area 52 Non è difficile Ok Vai Ok Vai Adoro tantissimo Nel Joss è diventato Enormemente Parcure Cioè Te vuoi che io Le faccia fuori Con l'armettina Normale Ok Però ho visto Che Il coso Il qualcosa No Lo faccio vedere un altro momento Visa Visa Ok Aspetta Lo faccio vedere un altro momento Lo faccio vedere un altro momento di calma Vino a camera Che cazzo fai Ok Ho notato che In quanto Non solo ti fa restare un po' finale Ma dovrebbe anche riportarti un attimino Più in su Sì Ti riporta anche un secondo Più in su Molto comodo A sapere cosa Quella roba lì Non so che sia Ma non mi piace Holy shit Ok aspetta Non mi ho preso Che culo Ok Di qua Di qua Vita Vita Cioè Ve ne basta solo uno Quando sei In papelinic Normale Questa roba Non mi piace Però Di qua c'è qualcosa So che posso prendere No I missili Fanno più comodo Però Gli sono arrivati Cosa cazzo sei Te Te cosa cazzo sei No No Lo schermo va a buio No Cosa cazzo sei Oddio No Mi metti anche loro Con lo scuso È la fine No Sei anche quelli Sui coso volanti Adesso hanno lo scudo Sarà molto difficile Ce n'è un altro da salvare Lo sento Ok Ok so cosa fare Di qua Di qua Di qua Ma io ho sentito Ce n'è uno da salvare Fermo Telefono Te non vai a buio Ce n'è uno da salvare Io l'ho sentito Merda è molto difficile E tra l'altro E tra l'altro Se non fai attenzione Lì Caschi di sotto E quella è la sabella Ora non puoi nemmeno più Sparcare il pavimento In maniera In maniera Che me ne frega Cioè È cattivissimo Ora Il gioco diventava difficile Tutto verso la fine Ok I cosi verdi È sempre bene Prenderli perché Fa nuovo Pericolo Io non ho capito In base a che criterio Eviti la zona minata Non ho capito Il robottino Minato In base a che criterio Lo cosi Fermo Non ho capito In base a che criterio Non ti fai sgammare Del robottino Corri Ok Adesso È l'unica zona Che mi ispira Sarà un'arena Terribile Ah ma Non sono da ricerca I missili Non sono da ricerca Che cosa brutta Ho sempre pensato Fosse una ricerca Ecco perché alcuni amici Ci mettevano la vita A morire E poi Un gamma In musea Incredibile Così a caso C'è qualcosa E mi sono perso I qua No Vai Ok no Per la muta Il robottino Non è che mi ispiri Tant'altra fiducia A me Io non ho capito In base a che criterio Eviti i robottini Non ho capito In base a che criterio Eviti i robottini I robottini In zona minata Non ho capito Con che criterio Discanzi Non posso riprendere Non lo posso riprendere Se vado Ok Ok però ho trovato Un modo per aggirarli I robottini Ho trovato un modo Per aggirarli Che però non è questo Ok però si Può funzionare O forse no Ok lui spara due E poi io Non ho capito Ok ok È difficile ma è gestibile Per adesso E per adesso è difficile Ma è gestibile Ok Vai 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 Sempre più in alto Sempre più in alto Fermo Vai 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 Non cascare Non cascare Non cascare Che non può aggrapparti Ok ok Vai 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 È facile La diffiortà Ho capito come gira Si può fare È fattibilissimo Non ho capito Che puoi scansare i robottini Ma tanto oramai Non me ne frega Me ne frega il giusto Ok lì devo Devo collare per forza Perché se no mi prende È lì Quando fai due colpi Di fila Devo Devo Volare per forza Perché se no Qui apparirà gente Vero È palese Apparire gente Però non è partito il timer Che culo Perché mi dai 20 secondi Per salvarli tutti Perché sono tantissimi 20 secondi Per salvarli tutti Oddio No No Quanto stretto No Me lo dovevi mettere Il labirinto L'ho cantata No Il labirinto Me lo doveva mettere È la fine L'ho dovuta Aguffare Certo Ok Forse però Se seguo In ultimo tempo Capisco dove vado Che culo Vai via Vai via Che i tipi possono essere ovunque Vattene Mi è andata di culo Mi è andata tantissimo di culo Mi stanno bruciando gli occhi Perché mi serve il collirio Ma Non me ne frega niente In particolare l'occhio destro Mi sta bruciando Ma non me ne frega un cazzo Perché Sono vicino alla fine Di paperinic E lo voglio finire No bro bro Che non hai capito un cazzo Vai Vai Sì però Aggrappa Ci siamo di nuovo Ok Attenzione Sono nella stanza di partenza Finalmente Interessante Sono stati sconfitti Il fatto è sacco Ed io Me ne vado a dormire Ah ah Certo Non ancora pk Abbiamo un ultimo problema Da risolvere Ah Dimmi Non mi ricordo Dove si chiami Quindi si chiamerò Greg Pensa O forse Un astronave da guerra Io non mi ricordo Me ti chiami Nel Nella storia vera Di paperinic Quindi Ti chiamerò Greg Io non so Cosa sia Quel 55 su 40 Che continua sempre di più A salire Non so cosa sia Dai 32 minuti C'è Mi f***o La fine Inizia a essere tostino Non ho capito ancora Come eviti le mine Però va bene Grazie a tutti Assolutamente Grazie a tutti Grazie.